Quando gli uomini hanno capito che le altre stelle nel cielo sono tanti altri soli, si sono subito chiesti anche questi soli hanno pianeti che vi orbitano attorno? C'è vita al di fuori del nostro sistema solare? Siamo soli o no nell'universo? Fin dalla prima scoperta di un esopianeta, avvenuta solo 25 anni fa, Hubble si è unito ai tanti strumenti che provano a dare risposta a queste domande. Gli astronomi lo utilizzano infatti per dare la caccia alla vita su altri mondi. Sono trascorsi 25 anni dalla scoperta del primo esopianeta e 8 da quando Hubble ha raccolto la sua prima immagine diretta di un mondo alieno. All'inizio sapevamo solo di pochissimi esopianeti, tutti molto massicci e per lo più vicini alla loro stella madre. Ora ne conosciamo più di 3.000. Hanno dimensioni differenti, orbitano attorno a tipologie diverse di stelle e a una moltiplicità di distanze da esse. Una sola cosa non è stata ancora individuata, una prova di vita. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, la caccia agli esopianeti è ancora una sfida aperta. Poiché non emettono luce, si nascondono nell'oscurità. E tutta la luce che riflettono viene sovrastata dalla luminosità della loro stella madre. Questo rende particolarmente difficile l'individuazione di pianeti grandi quanto la Terra nella cosiddetta zona abitabile, ovvero la regione di spazio in cui l'acqua, in forma liquida, può esistere sulla superficie di un pianeta. E l'acqua è essenziale per la vita nelle forme che conosciamo. L'acqua rimane liquida all'interno di uno stretto intervallo di temperature. Se un pianeta orbita troppo vicino alla sua stella, l'acqua evapora, troppo lontano e congela. La sottile striscia tra questi due estremi, la zona abitabile appunto, rappresenta la probabile dimora della vita aliena. Sappiamo dunque dove guardare, ma come facciamo a capire se la vita aliena esiste su un pianeta lontano? Tra i telescopi disponibili, o quelli in costruzione o progettazione, nessuno è in grado di risolvere la superficie di un pianeta. I radiotelescopi, però, sono da anni all'ascolto di eventuali messaggi di altre civiltà, nella speranza che queste siano curiose quanto la nostra. Potremmo anche essere fortunati e trovare segnali di civiltà avanzate. Magari qualcosa come un gigantesco mondo a forma di anello, una struttura artificiale costruita attorno a una stella. Ma le probabilità di una scoperta del genere sono piuttosto basse. Cercando la vita, i telescopi nell'ottico e nell'infrarosso si concentrano sull'analisi delle atmosfere degli esopianeti. La vita è infatti capace di modificare su larga scala la composizione dell'atmosfera. L'ossigeno nell'atmosfera terrestre, per esempio, venne rilasciato miliardi di anni fa da organismi microscopici. Se un processo simile fosse avvenuto in altri mondi, potremmo essere in grado di individuarlo nello spettro del pianeta studiato. Dalla fine del 2016, gli astronomi europei avranno a disposizione i dati di quasi 500 orbite di Hubble, corrispondenti a più di un mese di osservazioni, per ottenere uno studio dettagliato delle atmosfere di centinaia di esopianeti conosciuti. Hubble ha già studiato atmosfere aliene, ma questo programma offre una nuova, impareggiabile opportunità di imparare più di quanto si sia mai saputo sugli esopianeti. I dati che verranno raccolti da Hubble nei prossimi mesi andranno a formare un archivio prezioso per tutti gli studi futuri. E con le qualità della prossima generazione di telescopi spaziali e da Terra, gli astronomi saranno più vicini di sempre a scoprire la vita in qualche altro luogo dell'universo. Grazie per la visione!